Mister, altra vittoria pesante, decima consecutiva, le faccio una domanda un po' provocatoria. Come ha fatto la squadra a mantenere l'attenzione su questo match senza guardare sia la spiega di domenica ma anche lo sconto diretto tra Cesana e Ternana? Penso che era una cosa scontata. Noi giochiamo il nostro campionato, abbiamo il merito di essere avanti di cinque punti, quindi dobbiamo guardare il nostro percorso. Le ragazze sono state brave, non era una partita semplice perché non ci sono partite semplici, doveva essere vittoria, vittoria è stata. Vittoria importante, adesso arriva la Ternana, una partita che vale un campionato? Sì, una partita e eventualmente una vittoria che vale un campionato, quindi grande serenità, grande soddisfazione per questo nostro percorso. Adesso la vittoria è lì, è un palmo di mano, dobbiamo essere brave, giocare con la giusta attenzione, con la giusta serenità, sapendo che ci giochiamo otto mesi di lavoro. Grazie mister. Grazie a voi. Adriana, vittoria importante, siete riusciti a non pensare alla partita di domenica contro la Ternana. Quanto valgono questi tre punti? Ma sono tre punti in più, sappiamo che era una partita importante pre-Ternana, abbiamo affrontato l'assessamento giusto, abbiamo subito fatto due gol, insomma abbiamo fatto una buona gara. Tu sei tornata a segnare gol un po' a ripetizione, tre nelle ultime due partite, è la migliore Adriana Gomez dal suo arrivare a Lazio? Sì, sicuramente mi mancava il gol, però il lavoro è sempre di lavorare al massimo e sapevo che prima o poi arrivava e quindi sono contenta di poter aiutare la squadra. Senti, tu lo scorso anno hai vinto il campionato, adesso arriva una partita fondamentale, ti chiedo come si prepara una partita di questo tipo? Non abbiamo vinto ancora niente, non possiamo sbagliare, non possiamo permettere di fare altre, crederci che possano ancora arrivare a vincere il campionato, dobbiamo entrare con l'atteggiamento giusto, siamo prima in classifica, il motivo c'è, quindi dobbiamo dimostrare anche la prossima domenica. Grazie. Grazie a voi. Mister, si interrompe la striscia di due vittorie consecutive, però contro la prima della classe, sette punti comunque sono stati mantenuti, perché l'Arezzo ha battuto il Pavia, le ha chiede un giudizio sulla prestazione delle sue ragazze. Abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare, è un turno infrasettimanale che in un campionato dilettantistico complica la vita a società piccole come la nostra, perché non abbiamo le potenzialità di gestire tre impegni settimanali come Lazio, Tarnana e via dicendo, e quindi abbiamo cercato anche di pensare a fare una buona partita e a non farci male, perché tra tre ne abbiamo un'altra. Siamo una squadra che ha fatto una rincorsa clamorosa nel girone di ritorno per raggiungere il nostro obiettivo che è quasi matematico, quindi oggi abbiamo fatto quello che potevamo contro la squadra che vincerà il campionato. Grazie mister. Grazie a voi. Sofia, arriva una sconfitta dopo due vittorie consecutive, ma contro la Lazio ti chiedo un po' che partita è stata, tu hai giocato una parte di match. Sì, è stata una partita difficile fin da subito, perché loro sono partite forti e noi abbiamo subito gol nei primi dieci minuti e dopo diciamo che abbiamo provato a rimetterla in gioco, provando a fare gol anche prima della fine del primo tempo e giocandocela fino alla fine. E poi ti chiedo se contro l'Ellas è l'occasione giusta per chiudere il discorso salvezza. Certo, noi vogliamo chiudere il discorso salvezza il primo possibile, quindi faremo in modo che sia domenica. Grazie. Grazie. Grazie.